eccoci qua buongiorno sempre da Matteo Barberi for meeting responsabile della formazione della soluzione per gestire la tua formazione online e offline for meeting oggi come vedete dalla da questo da questa slide parliamo del modo di integrazione cioè come for meeting vi permette di integrare integrarsi perfettamente nelle vostre soluzioni sia crm che sito web andiamo allora a subito a vedere insieme come si fa questo semplice operazione ora andiamo a condividere lo schermo come sempre e andiamo a prendere l'accesso for meeting for meeting vi permette alcuni aspetti di integrazione di tutto se andiamo nell'area impostazioni vi permette di far sì che l'utente andrà ad accedere nell'area di accesso al vostro sito web che andrò a scrivere qui la url e anche la pagina di uscita potete che l'utente di essere iscritto va a finire sul vostro catalogo sul vostro sito avendo una personalizzazione al cento per cento for meeting però non finisce qui perché vi permette poi andiamo su esattamente for meeting vi permette di accedere a delle cosette api come vengono così ben chiamate andiamo su login andiamo in usciamo in questo momento da for meeting e andiamo a prendere esattamente quelle che vengono chiamate web api le web api permettono a for meeting come vedete poi nella descrizione di avere la prima che questi frame che potete mettere nel vostro sito vi permette la cosiddetta login cioè la login è personalizzata e si inserisce all'interno del vostro sito ma sapete ovviamente voglia poi discorrere sono ovviamente pubbliche per quello chiunque ha gli api disponibili con abbiamo diciamo selezionato tutte le migliori api per permettere il collegamento ai vostri crm ai vostri database per accedere tranquillamente in maniera automatizzata ai vostri dati e poter poi passare il dato a for meeting e permetterla diciamo la chiusura di della dell'iscrizione stessa altra cosa che abbiamo già visto anche in altri moduli però riguarda sempre l'integrazione è che per si può permettere all'accesso a for meeting anche delle forme di iscrizione potete inserire in for meeting se io vado in for meeting e vado all'interno dell'opzione di iscrizione scelgo ovviamente i campi obbligatori ed ecco qua un altro i frame che vi viene proposto e vi permette l'inserimento della for di iscrizione nel vostro sito web ora in questo semplice modulo cosa abbiamo visto insieme in questo momento abbiamo visto la possibilità di far accedere gli utenti dal vostro sito web di poter avere la forma all'interno del vostro sito web di permettere di fatto un rindirizzamento dopo l'iscrizione sulle vostre pagine web queste sono quelle basiche che si possono fare con for meeting e come sempre andiamo a lavorare nell'ottica della personalizzazione per dar valore alla vostra scuola al vostro ente e al vostro brand grazie da Matteo Barberi e vi invito a guardare tutti gli altri moduli che compongono la soluzione for meeting e learning grazie a voi e buona giornata o buona serata dipende a che ora vi state sentendo o vedendo grazie a voi